Musica Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Al culmine di una lite ha aggredito la moglie con il suo coltello da caccia che poi è morta in ospedale. Il dramma in una tranquilla zona residenziale di Aquileia ieri sera. Per il marito è scattato il fermo per omicidio aggravato. Tra poco ci collegheremo in diretta con la nostra Paola Treppo, si trova proprio ad Aquileia per ulteriori approfondimenti. Intanto siamo pronti per vedere il servizio relativo alla tragedia di Aquileia. Invece siamo pronti per collegarci. A te la linea Paola, ti vedo. Sì, eccoci Alexis. Buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo al Civico 11 di via Corso Gramsci ad Aquileia. A quelle mie spalle ieri sera intorno alle 18.30 si è consumato questo tragico omicidio. Inizialmente pareva un tentato omicidio perché la donna è stata aggredita all'interno dell'abitazione dal marito con un coltello da caccia. È riuscita a guadagnare questa parte esterna che sta inquadrando Fabio Di Bernardo, dove vedete ci sono ancora purtroppo delle macchie di sangue. ha chiamato aiuto a gran voce, sono accorsi. I vicini di casa, i vicini che sono stati sentiti poi nella notte, la donna è stata rianimata proprio in questo punto e portata d'urgenza in ospedale. Nella parte invece della pertinenza dell'abitazione, vedete due automobili, sono state poste sotto sequestro dai carabinieri, chiede poste sotto sequestro l'intera abitazione insieme all'arma del delitto che è stata trovata. L'uomo non ha opposto resistenza, è stato confusionale, è stato portato in ospedale, dove si trova tuttora piantonato dai carabinieri nell'ospedale di Palmanova. non è comunque in gravi condizioni, è molto scosso per quanto accaduto. E allora sentiamo adesso il capitano, il maggiore Stefano Bortone, comandante della compagnia dei carabinieri di Palmanova. I carabinieri che sono intervenuti prontamente nel tardo pomeriggio di ieri, proprio a seguito di una chiamata al 112 fatta dai vicini di casa. In sostanza il caso è di ritenersi chiuso, nel senso che la dinamica dei fatti è abbastanza chiara, grazie anche agli testimoni oculari che per primi sono intervenuti per aiutare la donna, che chiaramente ieri sono stati sentiti presso questi uffici. Per quanto riguarda invece il movente, il tutto è ancora al valido dell'autorità giudiziaria. Da parte nostra stiamo raccogliendo tutti gli elementi necessari per avere una definitiva contezza su quello che è accaduto e appunto sulle motivazioni che hanno portato questo signore a compiere questo gesto. Non ci sono mai stati in passato degli interventi né nostri né di altre forze di polizia legati appunto a eventuali dissidi familiari. Come dicevo la dinamica è abbastanza chiara. La donna è stata colpita con un coltello a uso venatorio, alla base sinistra del collo. Ha raggiunto il cancello di ingresso sul suo cortile e poi si è accasciata. Sul posto oltre a noi è intervenuto il personale del 118 che ha in sostanza cercato di rianimare la donna e una volta stabilizzata è stata portata all'ospedale di Udine dove è stata poi portata in sala operatoria in condizioni disperate e deceduta alle successive ore 21. Sul posto qui c'era anche il pubblico ministero, la dottoressa Pace, che aveva già predisposto l'interrogatorio con l'avvocato appunto del Reo, però date le sue condizioni psicofisiche, era in forte stato d'agitazione, abbiamo preferito portarlo attraverso l'ambulanza del 118 presso l'ospedale di Palmanova dove si trova ancora adesso in osservazione e non in pericolo di vita. Come dicevo, la dinamica è chiara, la casa è sequestrata e allo stato attuale le notizie sono queste. L'uomo è piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio aggravato? Sì, l'uomo è piantonato a H24 da militare di questa compagnia e l'accusa è proprio quella di omicidio aggravato. E qui vicino ieri sera, ieri pomeriggio, mentre accadeva questo drammatico fatto, è arrivato anche il sindaco Emanuele Zorino che si trovava nella farmacia qui a fianco. Sindaco che avremo come nostro ospite e ci racconterà questi drammatici momenti nell'approfondimento. di A Voi la linea, Alexis, qui da Aquileia, ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Treppo assieme a Fabio Di Bernardo per questo collegamento in diretta da Aquileia. Ritorneremo in diretta, in apertura di A Voi la linea. Proseguiamo con la cronaca in cubo nella notte in Carnia per una doppia rapina avvenuta ai danni di due anziani. La prima si è verificata alle 22 di ieri, era Vascletto, una donna di quasi 90 anni, è stata bloccata da quattro persone con il volto coperto da un passamontagna. I malviventi hanno frugato nella sua abitazione rubando i soldi, i beni che conservava all'interno della sua borsetta per poi darsi la fuga. Il bottino monterebbe a poche centinaia di euro, probabilmente la stessa banda, agito poi intorno a mezzanotte e mezza in una frazione di Tormezza nell'abitazione di un uomo di 62 anni. In questo caso l'aggressione è stata molto violenta perché i malviventi hanno abbattuto la porta d'ingresso e hanno immobilizzato lo sventurato carnico che è stato anche picchiato perché ha cercato di opporsi. Sul posto sono intrimuti i carabinieri della compagna di Tormezza e anche il personale sanitario per medicare l'aggredito. Quest'ultimo ha riferito agli inquirenti di essere stato attaccato da persone che non indossavano un passamontagna, ma la mascherina chirurgica anche dalla sua casa sono speriti oro e contanti. Le fiamme gialle di Gorizia hanno inverto un duro colpo al mercato della piratteria autovisiva ed editoriale in Italia. La guardia di finanza ha oscurato 50 siti web illegali e oltre 250 domini web di secondo e terzo livello e 18 canali telegram che attraverso oltre 80 milioni di accessi annuali rappresentano il 90% della piratteria audiovisiva ed editoriale in Italia. Le attività investigative e repressive si sono svolte con modalità innovative, ha fatto sapere il colonnello Torino Magro colpendo la capacità di replicarsi in alias dei siti web pirati quando sono sotto attacco. Grave incidente stradale intorno alle 22 di ieri a Palazzola dello Stella sulla rotonda per Piancada e Pocenia, il conducente di una moto, un uomo di Muzzana del Turniano di 57 anni, ha perso il controllo della moto all'altezza di una curva e sbandando ha terminato la sua corsa in un fossato, in parte sommerso, l'uomo è stato trovato dai soccorritori con l'acqua alla gola, le sue condizioni sono apparse, subito gravi. Alle 7 di questa mattina un incidente stradale tra 4 auto si è verificato sull'accordo autostradale RAT-13 in Comune di Trieste, direzione Venezia, fuori dalla Galleria Carso. Il vigile fuoco di Upicina ha stato una persona rimasta incastrata nell'abitacolo, diversi feriti, tutti trasportati in ospedale per gli accertamenti. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale. Un altro incidente si è verificato all'altezza di Palazzolo dello Stella. Una famiglia di ronchi dei regionali è rimasta ferita a causa di un'uscita di strada, è venuto a lungo la 4 all'altezza di Palazzolo. Il sinistro è accaduto in direzione Trieste quando il capo famiglia ha perso il controllo del SUV sotto una pioggia battente. Incendio attorno alle 22.30, località Zellina di San Giorgio di Nogaro, in un'abitazione singola che si affaccia alla statale 14. Le fiamme sono sviluppate in seguito al probabile surriscaldamento di un deumidificatore installato al primo piano. Sul posto sono tenuti il vigile fuoco di Cervignano del Friuli e il comando di Udine con 4 mezzi. 4 persone presenti in quel momento all'interno dell'abitazione, tra cui una coppia di coniugi. Una di loro è rimasta intossicata, trasportata per accertamenti in ospedale. L'incendio ha causato danni al piano superiore della dimora. Uno striscione di protesta è stato affisso a Maniago di fronte agli uffici dell'agenzia e delle entrate di Maniago, come è noto dopo il lockdown, che ha bisogno di esplettare delle pratiche che non si possono fare in rete o tramite app, può farlo solamente su prenotazione nelle sedi di Udine Trieste, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo. Risultano invece ancora chiusi gli sportelli decentrati di Maniago, Gemona, Tarvisio, Cervignano del Friuli e Muffalcone, con i conseguenti disagi per i cittadini obbligati a spostarsi nelle direzioni provinciali, da cui l'iniziativa di protesta messa in piedi dal sindaco maniaghese Andrea Carli, stanco di dover sopportare una situazione fastidiosa e che non coinvolge solamente la sua comunità. E questo è il modo di essere prossimi ai bisogni dei cittadini? Domanda il sindaco sul manifesto posizionato proprio all'entrata della sede locale. Ricordiamo che dal 15 settembre tramite il sito l'app mobile Agenzia Entrate è comunque possibile ottenere un web ticket che consente di prenotare un biglietto e rimini a code presso un ufficio dell'agenzia da autorizzare nello stesso giorno. Il prossimo giovedì avremo una riunione importante con il governo, in quella sede porterò sul tavolo, assieme alle altre regioni, l'apertura al pubblico, come sta accadendo per il calcio e anche per gli altri sport, tra cui il basket. Ad annunciarlo ieri sera il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della presentazione della pallacanestro Trieste, allianza in vista dell'inizio del campionato della massima serie nazionale di basket. Ad ora andiamo a Udine, casa Cavazzini, dopo l'intervento di ristrutturazione, potrà ospitare rassegne a carattere internazionale. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto definitivo per interventi di adeguamento di casa Cavazzini per un importo complessivo di 1.236.000 euro. I lavori dovrebbero essere ultimati, fatto salvo imprevisti dell'ultima ora, ha commentato il vice-sindaco Loris Michelini, a fine luglio del 2021, in tempo per l'organizzazione di una mostra dal respiro internazionale, grazie al coinvolgimento del Comitato di San Floriano, la cui inaugurazione è prevista a ottobre del 2021. Dobbiamo mettere a posto tutta la parte delle luci sui quadri stessi, tutta la parte della sicurezza interna e esterna, rifare l'ascensore per portare a secondo piano le grandi opere e soprattutto l'umificazione di ogni stanza, perché certi quadri, certe opere d'arte, necessitano di un adeguato clima. Abbiamo dovuto, per non sbagliare, chiedere a chi ha fatto tutta una serie di interventi su altre città d'Italia ed Europa di poterci indirizzare, intervenire, per non sbagliare. I soldi che spendiamo saranno soldi spesi bene perché lì si potranno fare le grandi mostre anche nei prossimi decenni. L'amministrazione comunale punta anche sulla sistemazione della biblioteca civica IOPI per valorizzarne la scalinata e gli infissi. Sono tutta una serie di interventi che interesseranno artigiani, tra l'altro artigiani specifici di una parte, per poter riqualificare l'intero complesso. In città sono previsti altri interventi, come rifacimento di piazzetta del Pozzo, dove saranno comunque mantenuti i posti auto, ma sarà chiuso l'accesso da piazzale d'Annunzio e la realizzazione di marciapiedi nelle vie Tavagnacco, Bariglari, Treppo, Baldasseria, Media e Alta e Viale Cadore. Siamo in chiusura, tra poco appuntamento con a voi la linea. L'informazione ritornerà in diretta alle 16.30. Buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.